guardi che te lo pago eh senta aspetti qua lo guardi e poi parti se sei venuto a strappare altre foto sappi che le hai già fatte fuori tutte ti volevo chiedere scusa non è colpa tua se mi sono infuriato o aspetta così aspetta aspetta su c'è il mio indirizzo del numero di casa non devo siedere ancora no ma non state leggendo vero? no io lo tengo perché dovrei avere qualcosa in mano tipo ti senti scaltro non glielo dai il tono tu sei impegnato nelle due cose non te ne frega un cazzo che c'è lei manco la guardi come lei fa con rosario praticamente lei a lui non manco lo guarda però tu stavolta hai i toni più bassi concettualmente ti sciogli nelle battute non ti sciogli appena lei fa l'ultima battuta nel senso nel film da lì in poi però fino a lì tu sei così sei sostenuto per i fatti tuoi sia per te l'ultima conversazione capito? si si non c'è e neanche amicizia più che altro basta domani non ci vediamo più non mi stare a terzo come nel teatro stai verso di lui lo so non sembra però sei a terzo mettiti proprio qui un po' più così ecco tu che ci fai qui fuori potrei farti la stessa domanda ti siedi qua e non guardare lui guardati le cose pure tu sono vari scatti che faccio delle modelle qua sogni quindi qua esci però bisogna però bisogna essere però bisogna essere davvero bello per farci vedere da fare così ah io non lo cago proprio non ci sto per voler te provare qui qui tu guardi le foto sei affascinata da quello che stai vedendo è la stessa cosa che due su un uccellulare la panchina lui però all'epoca erano con i giornali quindi uno si fa le sue cose e tu ti guardi le foto parlate ognuno per i fatti suoi anzi addirittura le gambe da quel tu da quel lato e tu da quel lato e qua ti alzi perché ti fai guardare quindi tu ti alzi tipo non sei non sei più monchia prendi iniziativa hai fatto un gesto inconsciamente hai fatto un gesto perfetto ora tipo che hai fatto tipo tipo l'idea quindi questo è stato giustissimo però da questo gesto deve salire anche il tono io non ci sono eh però dico tu mi sei mi vedi invece non mi devi eh lo so eh no lo capisco eh no però però l'ho natata un po' questa cosa più su di lei e pure su di lui tu sei a posto tu sarebbe normale no no ma non perché perché tanto lì poi viverà naturale però ora cercate perché tu calcola che stai parlando con lui quindi non ha senso che si gira da verso di me no 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 beh poi eh la cosa che mi interessa però è la vespa come usiamo con la vespa? non posso chiamare perché la va a vire in giù posso chiamare devo parlare perché ho visto che c'è in un posto non pensavo che potrei essere una brava amatella potrei essere anche un'altra foto al contrario sì lo so allora vediamo le foto sì Ah, io? Non è nascoste per tutta la vita No È aperto Perché se dovrò fare per tutta la vita Comunque grazie mille Quindi la cosa finisce non nascoste Ora, sono bruttao Così facciamo? La mia partita è ora Io faccio il movimento come se ci fosse Ok, quasi Allora, tu fai una cosa Prendi un respiro prima, fai così Vaia Carmela, avevo bisogno di vederti E la butti tipo di diaframma Vaia Carmela Avevo bisogno di vederti No, se tu la butti prima Non fai un cazzo Lo prendi Lo tieni Vaia Carmela, avevo bisogno E la butti proprio, Carmelo La spingi l'aria Più la spingi più lei ti fa questa resistenza Avevo bisogno Non ti abbia gugnare, non ti abbia gugnare No, perché ti senti? Ti senti giudicato, compadre E ho bisogno che mi cuci la giacca Che si è frappata Ci mettiamo la censura Avevo bisogno di vederti Meglio, 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 meglio Guarda, guarda Ti ho detto cento volte che dobbiamo vederci di nascosto Se ci vede mio padre ammazza prima a me e poi a te Sei sempre la solita esagerata E comunque io di tuo padre non mi preoccupo E comunque di tuo padre non mi preoccupo Ti porto a Tavormina Mio cugino mi presta la 500 Ti porto a Tavormina Che tipo mio cugino mi presta la Tavormina Che tipo mio cugino mi presta la Tavormina Prima Ci vuoi Ma ora non vedo l'ora che arrivi in settembre Perché non parli con tuo padre E partiamo assieme Tu vai in qualche scuola di moda Che sei brava Così possiamo abitare assieme Ascoltala quando parla Magari Ma mio padre Piuttosto mi chiude in camera Per lui Io da sola Manco dal paese posso uscire Ma tu però Carmela Pace Fighi Frati Fidanzati I mariti I mascoli Su tutti stessi Lui bene mi vuole Magari quando ci sposiamo cambia E non la pensare più come la pensano qui in paese Sei sicura? Bello Mangiare e salutare Prima di un film Così poi sono tutti Ai aggassetti Allora siamo qui per portare la bicicletta della protagonista allo studio Oi ciao Come stai? Vai attaccati Film low cost Porco disco ci sono di nuovo macchine parcheggiate Opie mi distacco No aspetta aspetta Ora le superiamo Appena passa sta aperta Madre E si muove questa Può fare Nelle piatte Vi fa arrivare Vai vieni attaccati Che ora partiamo Si va Di seconda 20 km orari 20 km orari Oddio Occhio Non ti stringo Non ti stringo Non mi stringo Ti salgo di sopra Va bene Mi fai togliere però Mi schiacci nei ricani proprio Vaffanculo Dai possiamo pure aumentare Siamo a 30 km Ti è staccato Ok Vabbè no Non ti staccare Pensate ti devi staccare perchè era stretto Attaccati Ci sei? Dai che ho... Minchina io non me la ricordavano tutte ste gran curve sta cazzo di strada È lunghissimo non pare lo stradano Ma forse ce l'ho pure io Stiamo facendo la prova Mi tengo il... Rubbe Catano Rubbe Catano La leccata di mulo No queste te li faccio fare così L'altra volta non mi piaceva non è stato È il 13 giugno Madre Sono in studio da solo sto facendo le... Musiche per il nuovo film Ci provo Perchè sono le prime volte che armeggio con Logic e... Quindi ancora tante cose le sto imparando adesso però Sta venendo fuori qualcosa di forte Speriamo bene Speriamo bene Grazie per la volta non mi piaceva Ma per la volta non mi piaceva E' un anno del film Il giuro tutto È un anno di fatto che è passato Una volta non mi piaceva E' un anno di fatto che è un anno di fatto E' un anno di fatto che invece sono la prima volta Questo è quello che ho fatto in tre quarti d'oretta, mezz'oretta Vediamo bene Ciao a tutti, praticamente oggi è il 14 giugno del 2016 Dice che stiamo facendo delle prove audio perché essendo noi sprovvisti di danaro dobbiamo farci tutto da soli E quindi sprovvisti di danaro nel senso che non abbiamo danaro in abbondanza per pagare delle figure professionali E quindi stiamo facendo delle prove con la nostra attrezzatura ma fantastica Per vedere se riusciamo a risolvere il problema di parlare fuori Con appunto questa attrezzatura, cioè fare le scene in presa diretta con questa attrezzatura E questo, cosa ho qui? Non sapete quanto ci sta salvando la vita Perché non pensavamo che questa spugnetta potesse bloccare proprio la frequenza del vento Invece funziona E noi riusciamo ad avere un audio pulito anche in esterna Questo microfono che a parere mio è fantastico Ho comprato soldi spesi benissimo Sono quattro ruote di carriola messe uno, due, tre e quattro Quindi la scania invece di queste ruote di merda ha delle ruote gommate Ho spesa tantissimo Per vivere come pensi tu, dovresti trovare un po' più o meno Sì, come no? Che ti lascia libera? E qua nel paese è difficile che troviamo così Sì, specialmente Rosario Ma tu che ne sai? Qui bene il ruore E magari quando ci sposiamo cambia E tu ne vieni, non pensi nemmeno più come pensano qua in paese Sei sicura? Ah, sei il vero Non lo so, però... Oh, non lo so, però... Oh... Ci devo cuore la scala Aspetta, me lo porco duro Cammina Per vivere come vorresti tutto Dovresti trovare un po' più o meno Con la mente più aperta come noi Che ti lascia libera E qua in paese Mi sembra molto strano che mi trovi così Comunque non sei contenta quando partirei No, ma infatti dopo la... Oh... Che rimane un attimo cazzo Sta partendo la mia mia amica Ma è vivo? Ah... Ah... Sì E quindi specialmente Rosario Ma non... Non fa tutto quindi... Ma tu che lo sai Fedelino? Lui bene il ruore Sì... Ma guarda... 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 Ma guarda... Devono provare comunque insieme Così vedono pure un pochettino... Andiamo a fare... Non doveva... Non doveva fare la consegna alla signora Nicolina oggi Ma sicuro andrà a fare la consegna... E siamo praticamente... E siamo praticamente... Tornosa... È il pesante... Mi ha leccionare e che toanna laадica... Guarda...